Ciao ragazzi! Ciao a tutti! Sono qua con Martin Castrogiovanni e abbiamo appena fatto una bella chiacchierata su quello che faremo insieme il 30 di novembre a San Patrignano Vi aspettiamo Mi aspettano loro a me, penso E' al contrario Una storia bella di uno sportivo di una persona che cambia vita più volte dall'Argentina all'Inghilterra, all'Italia Ha avuto tante volte in testa, non sta molto bene però No, scherzo, scherzo Che si reinventa dello sport, dello spettacolo Di tutto, non mi annoio mai E che conduce con Belen Che è una bella sfida Per lei Ciao ragazzi, ci vediamo il 30 novembre a San Patrignano Vediamo Ciao! Ero Grazie a tutti.